Il colonnello Pasquale Saccone è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo. Dal 5 settembre è assunto il comando al posto del colonnello Emanuele Pipola, attualmente nella legione Abruzzo di Chieti. 44 anni, originario di Caserta, Saccone ha prestato servizio in varie caserme campane e siciliane. Gli ultimi nove anni li ha invece trascorsi presso il Comando Generale di Roma. Ha già incontrato prefetto, questore e procuratore di Teramo per avere un quadro chiaro della situazione e sicurezza sul territorio teramano. Come lo ha trovato questo territorio? Quello di un livello di sicurezza sicuramente importante, sicuramente già consolidato. Il mio compito principale sia quello di non abbassare assolutamente la guardia e di continuare su questi livelli. Questo ci comporta, come sto cominciando a dire ai miei collaboratori, anche sulla base dei loro suggerimenti, comporta che chiaramente gli approfondimenti saranno rivolti a tutte le realtà che interagiscono su questo territorio, dalla persona fisica a quella alle principali aziende, ai principali imprenditori che lavorano su questo territorio. Sicuramente gli organici sono tarati sui livelli e sui obiettivi che ci prefiggiamo. Abbiamo un normale turnover che è rappresentato dagli avvicendamenti che avverranno nei prossimi periodi, tra personale più anziano che si avvia al congedo avendo raggiunto i limiti d'età e personale che sarà integrato a seguito dei numerosi concorsi che l'Arma dei Carabinieri ha indetto negli ultimi anni. Per cui riceveremo anche i carabinieri giovani che ci daranno nuova energia per affrontare questa sfida. Chiaramente ho affrontato diverse realtà territoriali, sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista internazionale. Mi sono confrontato anche nei territori campani, siciliani in particolare. Devo dire che lì ho trovato l'arma che ha fomentato il mio ardore giovanile per l'arruolamento. Ho trovato i veri valori che mi aspettavo di trovare e che mi hanno dato grande entusiasmo lavorativo e tecnico-professionale.